Il pizzaiolo Giangi De Masi è tornato da Venezia con un carico di soddisfazioni dopo aver deliziato tanti attori e registi presenti al Festival del Cinema che si è concluso domenica scorsa. Il bagaglio del ritorno è molto più pesante, ha dichiarato Giangi, perché porto con me ricordi meravigliosi, un'esperienza unica sia dal punto di vista professionale che umano. Fiero con onore e orgoglio ho rappresentato la Daunia e le mie pizze e i nostri prodotti hanno lasciato il segno, ha sottolineato De Masi. E in effetti si è fatto accompagnare da una selezione di specialità che propone anche nelle sue masterclass che già conduce con grande successo dal vivo e online, grazie al circuito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, per la quale svolge anche il ruolo di istruttore. Nel suo paniere c'erano i vini La Marchesa, l'olio Oro del Gargano, la birra artigianale Montalto, i latticini Adarola e poi le conserve e i pomodori Mangeti La Puglia e Buonassai.